cari amici del canale youtube dentro la notizia quest'oggi parleremo di una buona notizia per molti la riduzione delle tasse il cavallo di battaglia della lega è la flat tax cioè la tassa unica meta la quale si vuole arrivare gradualmente la novità di questi giorni è che salvini vuole estendere la flat tax anche ai dipendenti questo ha suscitato reazioni diverse sia all'interno del movimento che nelle opposizioni oltre che chiamare in causa il ministro dell'economia tria prima di prendere in considerazione le varie dichiarazioni vediamo quanto è già stato fatto ad oggi in tema di flat tax da quest'anno la novità più importante è l'estensione del regime dei minimi per le partite iva che consente di pagare un'aliquota forfettaria del 15 per cento sui propri introiti fino a 65 mila euro in base a quanto previsto dalla legge di bilancio la seconda aliquota del 20 per cento sarà avviata progressivamente dal 2020 l'anno prossimo per ricavi sempre da partita iva tra i 65 e i 100 mila euro per chi apre una nuova partita iva o start up è invece in vigore un'aliquota al 5 per cento per i primi cinque anni ma vi sono dei paletti che mirano a scoraggiare eventuali abusi come quello che la nuova attività non sia la prosecuzione di altre precedentemente svolte molto interessante è anche la flat tax al 7 per cento per i pensionati stranieri o italiani che si trasferiscono al sud in un paese con popolazione fino a 20 mila abitanti questo a mio avviso potrebbe trattenere alcuni pensionati che pensano di trasferirsi all'estero per pagare meno tasse e contribuirebbe a rilanciare anche almeno in parte l'economia del meridione veniamo ai costi per lo stato secondo la relazione tecnica alla legge di bilancio la flat tax sulle partite iva costerà il primo anno solo 330 milioni il costo salirà a 1,9 miliardi nel 2020 per poi attestarsi a 1,4 miliardi la flat tax al 20 per cento tra i 65 e i 100 mila euro per imprenditori negozianti impegnerà 109 milioni nel 2020 1,1 miliardi nel 2021 e 856 milioni nel 2022 costi modesti a fronte di benefici di stimolo all'economia la proposta di salvini per i dipendenti prevede sempre due aliquote si è ragionato sul 15 per cento fino a 80 mila euro di reddito e un'imposta del 20 per cento per i redditi eccedenti tale soglia a contestare la proposta si è alzata la voce del ministro per il sud barbara lezzi ospite del programma 24 mattino morgana e merlino su radio 24 con le parole la flat tax costa 60 miliardi di euro e il nostro paese non se li può permettere dunque è una promessa che non si può mantenere la risposta del vice premier salvini non si è fatta attendere e ieri ha così replicato la lezzi si occupi delle regioni del sud che hanno bisogno di qualcuno che lavori a tempo pieno salvini intervistato da rtl aveva inoltre già chiarito che sono numeri strampalati non siamo al superenalotto i numeri li contiamo con più precisione per la prima fase della flat tax per le famiglie per un primo colpo sostanzioso non per tutti ma per tanti servono 12 15 miliardi e sarebbe una rivoluzione epocale a confermare quanto detto da salvini è arrivata la precisazione del ministro dell'economia giovanni tria secondo cui non c'è nessuna stima fatta su una riforma che ne io nel mef abbiamo mai ricevuto non c'è nessuna stima del mef sulle riforme in discussione proposte specifiche non sono arrivate all'analisi del mef la flat tax è allo studio da luglio su varie possibili ipotesi quindi non c'è nulla di nuovo rimane quindi un mistero su chi abbia messo in giro la voce dei 60 miliardi di costo e per quale motivo ovviamente mistero si fa per dire in merito luigi di maio ha rilasciato la seguente dichiarazione come al solito si fa sempre molta confusione e polemiche su ogni tema la flat tax è nel contratto di governo il contratto si rispetta e come ho già detto si troverà una soluzione abbiamo fatto il reddito di cittadinanza quota 100 e come movimento 5 stelle abbiamo già delle proposte che condivideremo con la lega per abbassare le tasse questo è l'importante quel che chiedo è che ogni dichiarazione sia sempre fatta con un principio di verità verso i cittadini pensiero che sono certo condivide anche la lega qui di maio non specifica chi fa sempre confusione e polemiche su ogni tema per usare le sue parole ma sarebbe interessante identificare pubblicamente chi fa questo magari in buona fede per incompetenza o magari in malafede nella disputa è intervenuto anche il segretario del pd nicola zingaretti a circo massimo su radio capital queste le sue parole serve la progressività delle imposte non l'illusione che se i ricchi hanno più soldi spendono di più queste sono le teorie di paperonde paperoni non di paperino e qui qua qua alla smentita di tria vanno aggiunte le parole del sottosegretario alle infrastrutture armando siri promotore della flat tax io non so se esiste questo studio del mef ma se esiste io non l'ho mai visto stiamo parlando di un progetto molto diverso dalla fase 2 della flat tax che invece abbiamo in mente noi ovvero il voler applicare fino a 50 mila euro di reddito il 15 per cento di aliquota fissa con le deduzioni che sono inversamente proporzionali al reddito ha poi aggiunto che avrebbe lo stesso impatto sui conti pubblici che ha avuto il reddito di cittadinanza Matteo Salvini conversando con i giornalisti a melfi ha inoltre detto noi non abbiamo smesso di lavorare sulla flat tax giorno e notte con questa manovra economica siamo già riusciti ad avvantaggiare tantissimi artigiani partite iva commercianti piccoli imprenditori liberi professionisti chi fattura fino a 65 o 100 mila euro nel 2019 vogliamo entrare anche nelle case delle famiglie dei lavoratori dipendenti italiani di maio specifica poi che sulla flat tax familiare troveremo una soluzione insieme alla lega come abbiamo sempre fatto sono molto fiducioso noi come movimento 5 stelle abbiamo lavorato a una riduzione degli scaglioni e della pressione fiscale attraverso il coefficiente familiare e in questo senso si individuerà un punto d'incontro ne sono certo torniamo ora ad un'altra affermazione di Salvini a RTL sulla quale sarà utile ragionare queste le sue parole stiamo lavorando anche per le famiglie stiamo facendo tutti i conti del caso ma siamo convinti che se abbassi le tasse lo Stato poi incassa di più è un investimento intelligente per il futuro con una cifra tra i 12 e i 15 miliardi diamo un primo colpo sostanzioso e un abbattimento fiscale non a tutti ma a tanti è l'inizio di un percorso una rivoluzione epocale ritenete che lasciando più soldi in tasca alle famiglie queste possano aumentare i consumi interni e dare il via a un ciclo virtuoso con le aziende che aumenterebbero la produzione per far fronte alle nuove richieste e con conseguenti nuove assunzioni gli economisti ritengono di sì sì abbassare le tasse è un investimento intelligente dello Stato che nel lungo periodo oltre a favorire un maggior benessere economico per le famiglie aumenterà il bacino dei contribuenti con relativo aumento del gettito come si sa un investimento prevede che si mettano in campo delle risorse prima di vederne dei benefici se si farà gradualmente le risorse ci sono se invece si desidera dare uno shock all'economia si dovrà introdurre al più presto una moneta parallela che siano i mini bot o i certificati di credito fiscale o qualcos'altro compatibile con la gabbia di ferro impostaci dall'Unione Europea sarà da vedere cari amici fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale numerosi e aiutatemi a sviluppare con i vostri preziosi commenti le tematiche che vi stanno più a cuore aiutateci a diffondere i video e se lo desiderate potete sostenerci con una donazione un abbraccio dal vostro Roby grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti